C.S. i sindacati intenzionati a denunciare Pietro Tidei per le continue offese nei confronti dei lavoratori. C.S. la squadra maschile della SGIN guidata da Marco Massara promossa in Serie A. C.S. la squadra maschile della SGIN. 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 sfideranno a Ciampino altri cori scolastici nel concorso Tocchi. Sentiamo. Il coro interscolastico giovanile in controcanto, dopo Tamburi di Pace a Civitavecchia e il concerto di Primavera a Tarquinia, è pronto a una nuova sfida. Giovedì dovranno affrontare il concorso per cori scolastici Tocchi, destinazione il liceo scientifico Volterra di Ciampino. A guidarli, come sempre, il maestro Riccardo Schioppa che, con le prime due manifestazioni, ha potuto saggiare la temuta emozionale e la preparazione del suo coro, in vista di un impegno su cui lui e tutta l'associazione Ensemble Incantus punta molto. Queste due manifestazioni, spiega Schioppa, sono servite per rompere il ghiaccio e parla di un coro che ogni anno si rinnova, con l'ingresso di nuovi studenti e l'uscita di altri. Durante questo mese abbiamo sistemato molte cose e si dice soddisfatto per il lavoro svolto. E ad essere orgoglioso di questi ragazzi, che esprimono con il loro entusiasmo fuso, a impegno e dedizione, la vera essenza di tutta l'associazione, è anche il presidente dell'associazione Ensemble Incantus, Daniele Brizzi, che ringrazia anche il maestro Schioppa. È la sua semplicità di azione a coinvolgere questi ragazzi in un'attività che li aiuterà a crescere, sia dal punto di vista umano che culturale. E ancora prima di andare in scena al Teatro Traiano, la storia delle note ottiene un grande successo. Tutti esauriti i biglietti per presenziare allo spettacolo dell'8 maggio al Teatro Civitavecchiese. E così l'associazione Scatola Sonora, in sinergia con il Teatro Traiano, il Comune e la Fondazione Casa di Risparmio di Civitavecchia, è già al lavoro per organizzare la replica. Primo faccia a faccia tra i cinque candidati a sindaco domenica all'interno del castello di Santa Severa, Roberto Bacheca, Renzo Barbazza e Eugenio Fratturato, Massimiliano Fronti e Massimo Padroni si esprimeranno sul futuro dell'antico maniero che i rappresentanti del Comitato Difesa del Castello vogliono aperto a tutti, il luogo di cultura, turismo, centro di scienze e di educazione e ricerca. La mobilitazione per assicurare un uso pubblico per fini culturali e turistici del castello di Santa Severa prosegue senza sosta, dicono i volontari. In vista delle imminenti elezioni comunali abbiamo promosso un pubblico incontro con i cinque candidati a sindaco al fine di conoscere gli orientamenti delle varie forze politiche in relazione al futuro del nostro prezioso bene monumentale. Dopo l'avvenuta presentazione del progetto per un uso pubblico per fini socioculturali e turistici che dovrà essere recepito dal primo consiglio comunale della nuova amministrazione stiamo predisponendo per il castello un utrito programma di attività estive per farlo vivere e mantenerlo al centro dell'attenzione nonostante il permanere del degrado e dell'abbandono da parte delle istituzioni preposte. Cogliendo quindi l'occasione per vedere come intendono intervenire su questo prezioso sito archeologico e cinque candidati a sindaco i cittadini potranno anche rivolgere altre domande ai candidati su temi che in questo momento sono di particolare importanza come la sicurezza della città, il porto, la sede comunale, il cementificio. Il consigliere d'opposizione Pietro Serafini prende la parola sulla vicenda della delibera relativa a Roma Vetus, ritirata in consiglio comunale a Tarquinia. Al sindaco Mazzola attacca Serafini, brucia la bocciatura dei suoi consiglieri questa è l'unica triste verità. Aveva sei consiglieri della sua stessa maggioranza contraria al progetto Roma Vetus nella prima commissione urbanistica dove è stato illustrato il centro commerciale con annessi e connessi di Roma Vetus tutti i membri hanno espresso parere negativo vuoi per la vocazione culturale etrusca tarquiniese vuoi per l'assenza della soprintendenza delle belle arti che avrebbe dovuto esprimere un parere o ancora perché siamo patrimonio UNESCO perché il progetto presentava un business plan non realizzabile perché il vero obiettivo turistico da raggiungere è in realtà quello di valorizzare il nostro centro storico e portare qui da noi quei croceristi che tanto fanno gola alla società proponente che vorrebbero intercettare a nostro discapito. Poco più di 20 giorni fa, ricorda Serafini, veniva approvato in giunta il progetto Roma Vetus senza concertare con i partiti dell'opposizione ma ancora più grave senza informare la maggioranza ormai una consuetudine del suo operato e quindi senza il supporto dei suoi consiglieri stanchi di essere sottomessi alle sue decisioni spesso scellerate e scordinate nella sua azione politica. Il suo atteggiamento ha provocato la debacle del centro-sinistra in sede di Consiglio Comunale, attacca Serafini dove abbiamo assistito per più di un'ora ad una serie di interventi e raccomandazioni da parte del suo stesso schieramento che bocciava il progetto Roma Vetus e la società proponente. Tu sei qui, questa la nuova parola d'ordine del movimento Fontanatonna di Allumiere che domenica ha inaugurato la nuova sede in via Dante Alighieri. Tu sei qui è l'invito al cittadino stanco e deluso dallo sport nazionale italiano, sia il salto della fratta. È l'appello a tutti quelli che hanno a cuore il paese e il grido dei giovani disoccupati precari studenti che non hanno santi in paradiso o amici nella bottega giusta. È il fine ultimo di quello che dovrebbe essere la politica con la P maiuscola ossia il bene comune. Ad Allumiere è nato un sistema di potere che impera da 30 anni il popolo è sempre il primo a rimetterci e loro signori e figli i primi invece a spartire. Il movimento Fontanatonna lancia l'iniziativa Cittadini in Comune cioè una formula di incontro tra il movimento e la gente. Ogni giovedì dalle 17 alle 19 il consigliere comunale Domenico Vittori sarà in sede per ascoltare le proposte e proteste della cittadinanza. Dopo aver lanciato l'allarme sull'inquinamento al fosso della Bolzella spiegano i fontanaroli stiamo aspettando i chiarimenti aspettiamo anche che la Giunta abbatti l'occhio sposi i nostri progetti per il compostaggio ancora stiamo aspettando risposte sulla questione della diretta streaming del Consiglio Comunale ci chiediamo quale sia la paura o gli impedimenti insormontabili stiamo aspettando che qualcuno finisca la scuola materna aspettiamo che qualcuno paghi per gli alberi tagliati al faggeto insomma stiamo aspettando che qualcuno si svegli dal torpore inizia a pensare non solo ai propri affari ma anche a volte a quelli di tutti. E ha deceduta ieri mattina la mamma del primo cittadino di Allumiere Augusto Battilottio Grande Cordoglio quindi in paese per il lutto che ha colpito il sindaco tutta l'amministrazione comunale, i dirigenti e i dipendenti comunali la Proloco e l'Agraria nonché le varie associazioni del paese si stringono intorno al loro sindaco per questa dolorosa perdita della cara mamma Vanda Taranta donna molto apprezzata in paese per le sue innumerevoli doti Cordoglio al sindaco è stato espresso dal preside dell'ICD Allumiere Vincenzo Rudi a nome di tutto il corpo docente del personale ATA e di tutti gli alunni Condoglianze al primo cittadino di Allumiere anche da parte di tutti i sindaci del comprensorio Oggi pomeriggio alle 16 presso la chiesa Santa Maria Assunta da Allumiere il parroco Don Vincenzo celebrerà le sequie della donna al termine dei funerali si procederà la sua sepoltura nella cappella di famiglia nel cimitero di Allumiere Il comando della polizia locale di Tarquinia comunica che per consentire lo svolgimento della processione della Madonna di Valverde domani la viabilità nel centro storico subirà una modifica temporanea la sosta sarà vietata dalle 15.30 fino alla conclusione della cerimonia religiosa in via Valverde, piazza Cavour, via 20 Settembre via dello Statuto, via San Giuseppe piazza Giacomo, Matteotti piazza Nazionale, Corso Vittorio Emanuele II la circolazione dei veicoli sarà interdetta per il tempo necessario al passaggio della processione in occasione della ricorrenza l'amministrazione comunale ha anche predisposto la chiusura degli uffici pubblici e delle scuole In occasione della giornata nazionale del malato oncologico che si terrà in tutta Italia il 20 il Dipartimento di Oncologia e Matologia dell'ASL di Viterbo in collaborazione con le associazioni Beatrice Onlus e Aman ha predisposto un programma fitto di eventi e di incontri aperti tra cittadinanza rappresentanti delle istituzioni operatori sanitari associazioni di volontari e studenti che si svolgeranno a Tarquinia da oggi all'11 maggio e a Viterbo nella settimana che va dal 15 al 19 maggio a Tarquinia oggi un incontro con gli studenti delle scuole medie superiore sul tema della prevenzione della lotta contro il fumo della vaccinazione contro l'HPV del tumore della mammella dell'alimentazione e dell'attività fisica sabato sarà il turno di un incontro aperto con la cittadinanza che avrà luogo presso la sala consigliere del Palazzo Comunale e che prevede anche la partecipazione del sindaco Mauro Mazzola ed ora parliamo di sport abbiamo realizzato un sogno siamo finalmente in Serie A ed è proprio il caso di dire che il lavoro paga ad esprimersi così il presidente della SGIN Pierluigi Miranda dopo che la squadra maschile della società civile vecchiese ha vinto i campionati di Serie B conquistando quindi la promozione nella massima Serie dopo tanti investimenti tanta dedizione e passione prosegue ancora Miranda per la prima volta in 30 anni di attività siamo in Serie A a Biella sabato e domenica scorsi si è tenuta la finale nazionale di Serie B e dopo una gara strepitosa i nostri atleti sono riusciti a conquistare il giardino più alto del podio al momento della lettura della classifica stavamo tutti in attesa e quando i nostri ragazzi sono saliti sul podio vi è stato un boato al palazzetto protagonisti di questa grandissima avventura gli eccezionali atleti Tommaso Pampinella Aldo Pantaleoni Simone Ditello Rocco Tana Emiliano Taito e Francesco Fossella questi ragazzi oltre alle loro indubbie qualità devono alla loro vittoria anche al lavoro del tecnico Marco Massara e ricorre oggi il ventesimo anniversario della tragica scomparsa di Elio Tortora il giovane calciatore colpito dal fulmine durante un allenamento sul campo del Santa Marinella in suo onore a partire dalle 18 Alta Magnini si svolgerà un quadrangolare promosso da Alessandro Galli e Andrea Rocchetti le squadre che si fronteggeranno sono la Sampio il Santa Marinella gli unores nazionali del Civitavecchia la quarta squadra sarà invece composta dagli ex compagni di squadra di Tortora e finisce in semifinale nazionale il cammino degli sniper under 20 a Milano i Civitavecchiesi con una rosa ridotta all'osso cedono per 14 a 3 ai favoriti alla vittoria per lo scudetto di categoria under 20 del Milano quanta noi ci fermiamo qui il telegiornale Alto Lazio torna come sempre alle 19.45 circa grazie a tutti per l'attenzione arrivederci